Sì, hanno fatto una manifestazione in città, noi sosteniamo questa vertenza e chiaramente sottolineiamo che non è una vertenza comunale, ma è una vertenza della città e della città metropolitana, quindi Napoli e Casavature, ma non solo sosteniamo da un punto di vista politico con la solidarietà, la vicinanza e l'impegno politico, abbiamo messo in campo io personalmente e l'assessore Panini una serie di iniziative con le aziende e con il governo perché si possa scongiurare o un ingiustificato licenziamento come nel caso di Almaviva o addirittura la soppressione di un'azienda come nel caso della Gepin, insomma a Napoli c'è bisogno di lavoro, non di licenziamenti.